Voi altri romani non siete altro che dei grandi molluschi e per di più attaccati alle sottane di Cardinai. Ma un fausù cambia a me, voi a fausù. Vi piace il canottaggio? Sì, è bellissimo! E io ho quasi il remo a Roma! E io ho molto... Da allora siete degli esperti. Domani, domenica, appuntamento sul temere per la prima coppa di canottaggio. Mi sa che ci siamo quasi, eh? Eh sì. Amica l'ora, perciò. Certo! Mezzogiorno in punto. A Ponte Sisto, i fratelli Colsi rimasero vittime di una svesta. Come andiamo? Andiamo bene? Sì, ci passiamo proprio in mezzo! A Ponte Mirvio, archivista Mughini e il suo collega Bellotti Bond decisero di ricorrere sotto la mente all'ausilio di un archigegno da poco inventato dagli ingegneri Barsanti e Matteucci. Era il primo famoso prototipo di motore a scoppio. In realtà, i due disgraziati vagarono molti anni ancora per le fogne di tutto il mondo, fino a sbucare nell'oceano, dove furono finalmente tratto in salvo da un transatlantico che faceva la traversata inaugurale. Il dei danici!